Una buona serata dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Andrea Biagioni. In A11 coda di 5 km tra Capannori e Alto Pasci a causa di un incidente in direzione Firenze. 3 km di coda anche tra Lavoria e Puntadera Ovest e Ponsacco in direzione Firenze a causa del traffico intenso. Disagio anche in A1 dove si è verificato un incidente tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione Roma. Inoltre fare attenzione ad un incendio divampato a Chiusi Chianciano in uscita in entrambe le direzioni. Uno sguardo ai cantieri di Firenze da domani 23 luglio prenderanno il via le operazioni preliminari alla realizzazione della polifora in Viale Strozzi. Sarà quindi istituito un restringimento di carreggiata dal lato di Piazzale Montelungo fino all'altezza del sottopasso. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!